150 interdittivi antimafia, 50 tra Altarini e Murales della Camorra rimossi. Adesso di nuovo ordigni esplosi a Ponticelli. Certamente l'attività di prevenzione e di repressione non elimina il crimine. È una battaglia di lungo periodo che richiede ancora, come avviene, indagini specialistiche, professionalità, per far sì che ovviamente la curva di questi episodi, che noi riteniamo siano anche conseguenza dei nuovi equilibri determinati dalla crisi del Covid, questa curva si abbassi sempre di più. Alto il tasso di comuni sciolti per Camorra, anche in provincia di Napoli, ha chiesto trasparenza, controllo sulle liste. Il 3 e il 4 si torna al voto. Sì, ho chiesto questo come atto di responsabilità da parte di coloro che presentavano le liste elettorali. Io ho scritto proprio l'altro ieri una lettera ai sindaci per sensibilizzarli sull'orgoglio della funzione che loro svolgono in prossimità ai cittadini, richiamare i principi della Costituzione di fedeltà alla Repubblica e richiamare soprattutto il valore della coesione sociale e della coesione fra le istituzioni che è l'arma migliore per lavorare bene.